Prima vittoria stagionale per la pallacanestro Nuoro impegnata nel campionato regionale Serie D. Il Sirbones nella gara d'esordio della seconda fase del campionato, quella che vede incrociarsi le formazioni dei gironi A e B, ha superato col punteggio di 109 a 66 il Terralba. Le due formazioni inserite nella pool B nella fase a gironi si erano piazzate rispettivamente all'ultimo e al penultimo posto con i Nuresi nella posizione di Fanalino di Coda. Ma il duro apprendistato, fatto di sconfitte spesso immeritate, ha fatto crescere il gruppo di giovani Nuresi che ora si apprestano a raccogliere i frutti del duro lavoro. La gara di Terralba è stata senza storia con i Sirbones in veste di Corsari che hanno dominato in tutte le frazioni. Il primo quarto si è concluso col punteggio di 33 a 21 per i Nuresi che hanno continuato a spingere anche nella seconda frazione, vinta con il risultato di 29 a 15. Il punteggio che ha mandato le squadre al riposo lungo con la pallacanestro nuore in vantaggio sul 62 a 36. Un distacco abissale che è aumentato nel corso della seconda parte della gara. I parziali di 26 a 12 e 21 a 11 hanno portato il risultato finale con i Nuresi che hanno prevalso sul Terralba con un margine di 43 punti. Sugli scudi si sia autore di 30 punti, il miglior marcatore della sfida. Cettovici con 24 e Mereu con 17. Una vittoria che fa morale classifica e che apre nuovi scenari per la pallacanestro nuore che ora può guardare con fiducia ai prossimi impegni. A cominciare da quello in programma domani alle 18 nella palestra con Ivia Lazio. Nell'occasione i Sirbones affronteranno il Generugi Cagliari. Nell'occasione i Signori